A un certo punto della vita di una persona giovane, tra i 15 e i 30 anni, si innesca una reazione infiammatoria che dà origine a ulcere nel colon. È la colite ulcerosa, una malattia cronica invalidante che in Italia colpisce circa 160.000 persone ma che per il 2025 potrebbe raddoppiare. La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale che colpisce e esordisce soprattutto in età giovanile, tra i 20 e i 30 anni, ma poi sorge in tutte le età. È caratterizzata da tutta una serie di sintomi come la diarrea, il mal di pancia, il sanguinamento e anche la stanchezza. Un paziente su tre può avere anche manifestazioni extra intestinali associate sempre di origine immunologica. Il mondo scientifico propone una presa in cura globale del paziente con un documento realizzato da EDRA, con il contributo dell'azienda farmaceutica Galapagos e con il patrocinio di associazioni di pazienti e di medici. La colite ulcerosa è caratterizzata da un impatto notevolissimo sulla qualità di vita, qualsiasi essa sia, del paziente che ne è affetto. Oggi abbiamo a disposizione innumerevoli farmaci per poterla trattare, nuove strategie, ma soprattutto è passato il concetto della centralità del paziente, cioè il paziente deve essere al centro del progetto di gestione della patologia con gli specialisti del settore a disposizione per poter affrontare qualsiasi peculiarità che riguarda questa malattia nel migliore dei modi. È fondamentale avere uno standard di cura che ad oggi in realtà manca per questa patologia in Italia. La nostra società scientifica sta ponendo le basi per iniziare un progetto che identifichi quelli che sono gli standard, devo dire, minimi per la cura di queste patologie a livello del territorio nazionale perché la presa in cura del paziente con un prodotto cucerosa a livello italiano è molto disomogenea, costringe spesso il paziente a una migrazione sanitaria che è uno degli obiettivi che vorremmo impedire. Cosa suggeriamo noi come associazione? Mi posso permettere anche di parlare anche ad altre associazioni. Innanzitutto iniziare a camparendere cose veramente importanti per il malato perché molte volte i bisogni potrebbero essere molto più semplici di quello che si immagina. Provare a comprendere, raccogliere i loro feedback relativamente a qualsiasi strategia che viene proposta. Informare i clinici, formare i clinici affinché andiamo un'attenzione sulla vita del paziente e su quelli che sono i suoi reali bisogni. Un clinico con la sua esperienza, con i suoi studi è il custode della verità scientifica. Il paziente può portare quel suo pezzettino di informazione che può essere altrettanto utile e complementare alla gestione della cura di se stesso.